Ciao a tutti, quello che sarà recensito oggi è un libro importante di poesia, una poesia nuova, davvero innovativa, come già è successo con il libro, il tredicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea, la mia esiste edizione, invece noi stavolta con le edizioni Progetto della Cultura presentiamo Francesca Dono con il suo Fondamenta per lo specchio. Signori, Francesca Dono è un'operatrice del settore sociale, si laurea al sud, poi si trasferisce a Milano e gli fa una grande carriera, ma inizia la sua carriera sempre al nord, anche come poetessa e come pittrice. Perché appartiene alla sezione Noè delle edizioni Progetto Cultura? Perché non esiste una nuova ontologia estetica, effettivamente la poesia di Francesca Dono è una poesia molto estetica. Estetica che dà dei colpi pesanti allo stomaco che fanno male, potrebbero sembrare, vi posso dire, la prima parte, un eccesso erotico pornografico, ma così non è invece. Perché vi è una miscellaria tra ciò che può essere un tavolo, io non vi dire qual è il contenuto, come più volte ho fatto con altri libri, tra ciò che un tavolo è il suo simbolo vaginale, o tra ciò che può essere un telefono, un telefono, non la è proprio nell'incrociare questi due aspetti, diversi aspetti che non stanno l'uno all'antipodo dell'altro, Francesca Dono riesce a realizzare un'estetica straordinaria della poesia, anche la forma come scritta, propositamente in minuscolo tutto, dove il titolo parte con dei trattini, e addirittura ancora un altro aspetto che richiamerebbe quasi delle eccellenze di futurismo. Scrive qualcosa che viene interrotto da un underscore, sarebbe il trattino basso che noi riusciamo a fare con la macchina da scrivere un tempo adesso con i computer. Poesia straordinaria davvero, infatti questo libro, che non è molto, sono 75 pagine, vale il suo nove pienamente, forse non riesce a raggiungere il dieci perché vi è quella estranetà che subito non fa comprendere, però Francesca Dono ha un curriculum impressionante, vince premi internazionali e nazionali di poesia che la proiettano nel firmamento. Voglio leggere non tanto un brano quanto, perché ho studiato una cosa, una cosa importante, scrivo per immagini e per inquadrature, fatte di metafore e strati che pagano asimmetrici secondo lo spazio e la posizione dell'occhio, quasi stesse non dipingendo ma facendo un progetto da architetto. Da Salvatore Massimo Faccio vi letto, vi letto e recensito, vi chiedo di mettere un mi piace e di iscrivervi alla pagina, mettere un mi piace nella pagina Facebook, nel canale YouTube, nel gruppo di Facebook, nella pagina Twitter e nella pagina Instagram. Andare a visitare il sito www.salvatoremassimofaccio.it che poi esce il nome e lettori e lettori censito nel menù, basta cliccare così con Francesca Dono il fondamenta dello specchio. A presto!